salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi proveremo a farlo su blocchi video in movimento su o dietro 8v come sempre la prima cosa dobbiamo fare mettere l'obbd all'inter macchina e mettere in moto la macchina una volta fatto ciò con il telefonino andiamo l'applicazione obbd e ci andiamo a trovare la macchina a fare la scansione di tutte le cinture della macchina come voglio vedere se il video ecco la fermo si vede la macchina perché ti vada bene ecco perché dovresti sempre ascoltare ok ragazzi dovresti bloccare il video su Audi A3 8W con l'obb di basta andare nelle applicazioni andare in video in movimento da off passare a on andiamo a confermare la procedura attendere la procedura effettuata e adesso dobbiamo riavviare il sistema per riavviare il sistema dobbiamo schiacciare 10 secondi il tasto di accensione e tenerlo premuto vediamo che il sistema automaticamente si chiuderà aspettiamo qualche secondo ok facciamo ripartire e adesso proviamo ok come potete vedere il video non si è bloccato sta funzionando perfettamente stiamo andando a media l'ora ok come potete vedere lo sblocco video ci ha effettuato anche camminando e superando i 30 all'ora funziona lo sblocco video ragazzi e per oggi è tutto spero come sempre questo video vi sia piaciuto come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale attivare la campanella e condividere i miei video per qualsiasi altra cosa scrivetelo nei commenti e sono qui a vostra disposizione ok ragazzi ciao ragazzi al prossimo video grazie a tutti